Antonio, innanzitutto complimenti per quella punizione fantastica Sì, è partita veramente bene, non so nemmeno come ho fatto scherzi a parte, io ho sempre avuto un feeling col gollo sulle punizioni solo che quest'anno ancora devo segnare, una volta il pallo, una volta le spinte oggi mi è andata bene, ma come ripeto, oggi era importante fare punti perché tutte le squadre non giocavano, facendo questo punto ci siamo portati parecchio avanti anche un punto di differenza sulle altre, siamo usciti dalla zona play-out Fino al pareggio, quel rigore, a dire la verità, un po' sospetto, voi ci credevate in una vittoria? Ma sicuramente, forse noi dobbiamo migliorare in questo, a gestire l'invantaggio ci è capitato più di una volta di passare in vantaggio fuori casa e non siamo riusciti a portare a termine la vittoria forse dobbiamo crescere solo in questo, quest'anno sta mancando solo questo però per il resto la squadra, i ragazzi non si può dire nulla perché ogni partita ce la giochiamo a viso aperto Siete cresciuti tantissimo dal punto di vista psicologico del gioco però nel secondo tempo siete un po' calati a livello di grinta forse vi stavate accontentando del pareggio Ma sai, quando arrivo a 10 partite alla fine a 28 punti nei play-out ogni punto tu fai i calcoli un attimo e dici, oh madonna, se faccio un punto qua esco fuori dai play-out quindi non è che uno sta contento del pareggio però cerca di non prendere perché poi una ripartenza, così prendere il 2-1 dal pescario e perdere una partita così a portata di mano del pareggio quindi è proprio il subconcio che ti fa tirare il rim in barca Prossimo impegno con un'altra diretta concorrente, Lanciano un'arma in più, il Progredi Tour Sì, ma sicuramente domenica dobbiamo vincere assolutamente visto anche la partita che si svolse qua tre mesi fa tu mi hai fatto l'intervista e un 3-0 è veramente pesante da digerire adesso abbiamo la fortuna di giocare a Progredi Tour loro stanno a 30 punti, noi 29 quindi bisogna fare il soppasso, assolutamente e quindi bisogna fare il soppasso, assolutamente